Il tuo consulente Agrometeo ti dà il benvenuto su Agronotizie, il tempo previsto per questo fine settimana. Ebbene, fino al 3 giugno insisterà sull'Italia e soprattutto al centro-nord l'anticiclone nord-africano il quale porterà ancora una calura intensa sull'Alpi, sul Piemonte, la Lombardia, l'Emilia, la Toscana, l'Umbria, il Lazio e la Sardegna. Invece domenica 4 la calura cesserà inizialmente al nord per l'arrivo di più fresche correnti atlantiche. Per quanto riguarda i fenomeni ci saranno temporali venerdì sulle Alpi e sul Piemonte, bello sul resto d'Italia, sabato ancora temporali soprattutto sulle Alpi, bello sul resto d'Italia, domenica invece arriva una perturbazione atlantica le cui fresche correnti porteranno temporali diffusi su tutto il nord Italia tranne l'Emilia, la Romagna e la Liguria, temporali che potranno essere anche di forte intensità. Bene, termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliacci, dal pulsante sottostante puoi visualizzare le previsioni di casa tua.